Allora, eccoci come promesso il secondo unboxing sui Pokémon. Piondiamoci subito, abbiamo 22 bustine da aprire CronoForze e 2 box collezione della 151. Rompiamo il ghiaccio subito, spacchettiamo il primo pacchetto di questa lunga serie, vediamo cosa ci offre. Opla. Il codice lo potete usare tranquillamente ragazzi, io non me ne faccio nulla, non so neanche bene a che cazzo serva, però va bene. Allora, partiamo con fuoco, energia fuoco, molto carina. Guardate, mi devo abituare, ho preso i treppiedi. Licky, licky, questa è simpatica come carta. Cacco, guardate che ho il microfono su Marte. Decryptazione esperta, Bayem, Faison, Shadow, oh, Vampia Luzza X. Full Art, Holo, non so, Full Art o Holo? Oddio, non mi bastonate, dopo vado a vedere. Oh, penso che ci abbiamo due o tre pacchi, raga, poi procediamo velocemente. Allora, energia base, Lickitung, Char-Ciabag, cazzo venoso, Solosis, Nespera, Koalasar, Dembra Godzilla quello, coordinazione speciale, Manoferrea, questo mi sta simpatico. Frosmo, Passo Ferreo, ok, terzo pacchettino. Vediamo lui. Bella, Senergia mi piace. Electabag, Bramley, Girafarai, come cazzo si chiama, Roselia, Zeraora, Eroe Ferreo, Carpedo, Ponita, Rosred, questa è carina, Melmetal, di merda. Questo pacchettino è andato un po' così. Questa si è spappolata, questa bustina. Oh, fuoco porta bene. Rokru, Litten, Likitung, Vigavolt, Grandizanne, Salvis, Total, Excadrill, Drampa, questa è carina. Andiamo via subito con l'altro. Comunque ci sta un po' sputando in faccia. Molto. Rikardo questi sono pacchetti comprati, opla, scusate, pacchetti comprati dall'edicola separati. Non fanno parte di qualche box o di qualcosa. Pikachu, Shitter, Omeril, Rapidash, Boltund, Moonstay, Slugma Reverse, Nespera Reverse, si è carina. Spera lì. Andiamo con lui. Oh, dai. Fai una bella pullata, però fa qualcosa. Su. Zoom, codice. Oh, mai che c'è zecco una uova, come cazzo funziona? Allora, viola. Golett. Melgem. Meltan, sembra un bullone questo. Nuzlea. Decritazione esperta. Stavsback. Attenzione, si ripetono, si ripetono. Godzilla. Flipper. Oh, acqua e crespe. Bella questa. Questa, bella, bella, bella. E poi non ho capito, dicono che ChronoForce non piace tanto, però visto che in competitive è carino, io nel dubbio sto facendo un po' di ChronoForce e vorrei completare il Master Set della 151, per esempio. E' tosta, però penso che sono arrivato anche in ritardo, speriamo di farcela, insomma. Codice. Cioè, io dico, se il codice sta così, no? Io metto la cazzo, giro e salo in contrario. Perché? Comunque, acqua, crocodile, berling, pdov, pineco, ribombe, rasamano, rapska, girafarigres, è carino. Pdov di nuovo, reverse, luna ruggente. Oh, questa, ti devo dire, non è male, eh? Non è male. Ragazzi, ora appoggia tutto lì, staco. Proseguiamo. Rispettiamo i tempi. Che dopo questi pacchetti abbiamo anche i due box, poi, della 151. Vediamo lì, c'è un mezzo desiderio di trovare Charizard, quello che vola. Mi piace un sacco. Il bullone, la nocciolina, crocodile, questo stavo ovunque, lo trovi anche a terra, senza che prendi la bustina, derling, sable, grandi zanne, per mezza di angelo. Questa ho visto che c'è una full art, che è pazzesca. Gollet, coda urlante, uppatica. E niente, ci sputa in faccia, ammiraiton. Proseguiamo. Anzi, dal suo lato. Ma trovo meglio. Voilà. Fatemi sapere che ne pensate, di cronoforze, perché secondo me comunque non è oscena, ha delle carte carine. Rapsca. Foretress. Qua crolla tutto, ragazzi, io ho paura. L'apparatone di metallo. Hunter. Illustrazione. Shatot. Carina, carina. Non mi lamento, non mi lamento. E c'abbiamo un miraiton che può andare anche a fare in culo. Molto bene. Allora, me la slivo. Ok, proseguiamo. Mi sono fatto un attimo di spazio che non c'era più da appoggiarmi. Beh, mi hai fatto un po' lo stronzo ultimamente, ho visto qualcosina, mi dà che era un holo. Sorsis. 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 Skitty. Electabuzz. Delmise. Nancora. Electivir. Oh, cincinno, questo almeno è simpatico. Eggans. Metangreverts. E Drump, ok, che abbiamo già trovato. Si ripetono, qui si ripetono. Forse è tosto da pullare. O forse perché sono le singles. Codice. Codice. Noctov. Corrofanov. Salvini. Bronsong. Excadrill. Solis. Niente, spine ferre. Ok. Proseguiamo. Dai, abbiamo comunque speranze poi nel 151. Anche se quell'acqua crespa mi è piaciuto un sacco, eh. Devo dire. Il bullone mi mancava quasi quasi. Anche la cipolla che corre. Mincino. Golurk. Shymin. Decryptazione spetta. Shymin reverse. Boltund. Luna ruggente. Questo pure ce l'aveva appena dato. Proseguiamo. Niente, eh. Mamma mia c'era. C'è il gattino che vuole entrare. Ma io vado ad aprire. Aprivo il pacchetto. Stracchio. Energio base. Bronsong. Excadrill. Quota urlante. Crinea lato, adesso è carino. la carta promo se non sbaglio anche rapsca e wimsicott questo lo trovi a terra senza aprire le bustine ah il gatto me l'ho dimenticato vabbè prossimo giro elettrico mincino rock roof litem rushmish giungla pericolosa senti eh palafin electivir carvagna oh bella guida dell'esploratore questa è bella 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 la slipiamo e andiamo ad aprire il gattino come ci sfonda la porta abbiamo aperto anche il gattino ci abbiamo il nostro umbron personale per il presentare è un po' guarda un po' vediamo che ci porti fortuna magari troppiamo qualcosa di potente si sieda non si preoccupi scusi anzi se l'ho distoppata codice il microfono prima di tutto mood break sembra giochino ok andiamo un po' più spediti eh crinialato mi ha dato il gacchetto di prima cosa ah poi è un'altra roba mi piacerebbe un sacco non lo so apri sia l'urkana che magic fallout però stanno un botto non so se vale la pena non le trovo manco italiane quelle di fallout se no le prenderei ah un'altra roba io c'ho un debbo tipo per le waifu le full art non so qua in italia forse ancora non vanno tanto crinialato due tre volte di fila ha dato e dai comunque stavo dicendo non so se qua in italia vanno tipo io esco pazzo per le full art per le cose tipo di edizione di bell e richiamo di erika roba lì impazzisco ancora devo trovarne una decente io pel di sabbia mai vista questa energia nebbia sembra figa l'avevo mai vista meditite rapida vuc trio ex vabbè simpatica comunque non l'avevo mai trovata ribombe liki liki questo mi fa sempre piacere trovarlo oh un'altra illustrazione di mincino aspettate che ve la mostro meglio bella questa è bella e dietro ci abbiamo eroe ferreo ma va a prendere il culo va x40 ok dovete vedere se sto migliorando pure nei tempi prima il primo video ci mettevo un quarto d'ora pure per aprire un pacchetto stiamo migliorando stiamo migliorando stiamo migliorando liki tung slugma bolton moosdale guida dell'esploratore ci abbiamo trovato il pezzo forte ciao amico mio ex cadrille brand blackhast devo ricordare ancora che ho il bastone davanti sto tutto storto metacross roseraid cheldeo victini cheldeo di nuovo ancora tu piantina del cazzo amma mia cazzo è un rampicante a che serve tranquillo eh questo è una chill pipe mister mai finalmente ne trovo uno volevo trovarlo raichu simpatico questo mi sta molto simpatico raichu pel di sabbia derling questa vorrei trovare l'illustrazione sono due che sono fighe luna ruggente mi perseguita questa luna ruggente the last schitti electabuzz bravo a me io ti odio attenzione quello era girafara coda urlante l'abbiamo trovato questo è carino sub sub lei eroe ferreo palafin mauchi grinealato di nuovo regà ne ho trovati tipo 10 ok faccio un po di pulizia e partiamo con i 151 un momento molto serio ciclipuff olivrat tanto ciclipuff è caduta dalla scrivania pj8 omanide e charmelon machamp carino carino c'è una pullata la facciamo ok energia oro l' exhibition e l' Critical Villeplume, niente, niente. Sheldr, Orsea, Golbat, avanzi, Persia, adesso non lo ricordo, Mankey, era uno di quelli che volevo finalmente. Zitti zitti che ce l'abbiamo fatta. Merge a base, Tentacle, Rattata che ricordi, questo mi ha sbloccao dei Fills. Squirtle, Likitun, Butterfree, Lapras, Pistaciclapine, Koffing, Articuno, New Ex, l'ha droppato, l'ha droppato alla fine, meno male ci stiamo riprendendo dei calci in faccia di ChronoForce. E ci rimangono ancora quattro bustine, apriamole. Spero di non aver fatto molti minuti. Cubone, Bulpix, Polivrat, Goldtack, Shider e Starmi. Va bene, va bene, va bene. Ah, non so se è la nuova espansione che deve uscire a breve, se è carina o meno. Ho deciso, vorrei prenderla, così un po' a scatola chiusa. Mi piace, mi ispira il nome. Oh, Energia Olu. Ghastly, Paras, Voltorb, Krabby, Dragonair, Siadra, Kabuto, Abra, Miao, simpatico questo. Vaporeon, va bene, va bene. Lo avevo già, Vaporeon lo avevo già. Penultimo. Codice. Andiamo. Ogni tanto smonto tutto, chissà quale giorno, ragazzi. PJ, Metapod, Bonita, Faccio ok. Hitmonchan. Piero. Uh, bello. Ups, scusate. Wartorto. Wartartong. Bello, bello. Beh, beh. Oh, non mi lamento per niente, non mi lamento per niente. 151, sono contento. Siamo all'ultimo pacchetto. Apro un attimo al gattino. Energia base. Oddish. Monkey. Meowth. Exegut. Gloom. Dactrio. Oh, bella questa. Mi piace. Pidgeot. Rattata. E Mewtwo. Ragazzi, che dire, sono abbastanza soddisfatto. Ci vediamo sicuramente al prossimo unboxing. Prenderò la nuova espansione. Probabilmente prenderò un box. Fatemi sapere che ne pensate. Un bacione a tutti. Vi ringrazio per chiunque sia rimasto fino alla fine.